Allora, ben ritornati! Questo video è dedicato ai ragazzi di prima e serve come allenamento per riuscire a svolgere le espressioni con le potenze. Quindi ascoltatemi perché cercherò di risolvere alcuni esercizi che non sono stati chiari. Allora, parto dall'esercizio 168. Ho già scritto il testo e sono contento di questa espressione in particolare perché mi permette di usare le proprietà delle potenze, come vedremo tra poco. Allora, prima vediamo 7 alla seconda. 7 alla seconda non si possono applicare proprietà delle potenze perché c'è il segno meno. Quindi si può subito svolgere il calcolo. 7 alla seconda fa 49. 7 per 7, 49 meno. Anche 3 alla terza può essere svolto subito perché dopo c'è il segno più. Quindi 3 alla terza fa 9, 9 per 3 è 27. Ok, più, parentesi graffa, 2 alla quinta. È vero che c'è il segno meno ma voglio farla dopo, quindi lo riscrivo. Meno. Qui applico la proprietà delle potenze. essendoci il diviso si sottraggono gli esponenti visto che la base è uguale. Quindi 3 meno 2 fa 1, fa 2 alla prima. 2 alla prima. Diviso 6 più. C'è la moltiplicazione, la facciamo dopo. diviso 5 più 2 più. Anche qui c'è il segno più. Volendo posso fare le potenze per prima. quindi 3 alla terza può essere trasformato in 27. Chiudo, diviso 2, più. 4 alla terza c'è il più e c'è il meno. Quindi sicuramente non potrò usare proprietà delle potenze. Posso svolgerlo. 4 per 4 è 16. 16 per 4 è 64. un po'. 6 per 4 è 24. 4 per 1 è 4. Più 2 è 64. Ok. Qui invece ho il per, ho il segno meno, quindi posso applicare la proprietà delle potenze. essendoci il 3 e il per e anche la stessa base. Posso sommare gli esponenti. Qui non c'è nessun esponente, quindi è sottinteso l'esponente 1. 3 più 1 fa 4. Quindi devo scrivere meno 3 alla quarta. Ok, riscriviamo tutto. 2 alla quinta. 2 alla quinta. 2 alla quinta c'è il segno meno. 2 alla quinta è il 2 moltiplicato per se stesso 5 volte. Io so che fa 32. 2 alla prima è uguale a 2. Quindi, 32 meno 2. Chiudo. Fiso 6 più 2 per 5. Lo riscrivo. Quindi, cosa importante? È vero che svolgo le operazioni prima all'interno della tonda. Le potenze, cosa che vi sto dicendo adesso, vi potrà essere utile, si possono risolvere subito se la potenza viene circondata da segni di addizione o sottrazione. Ok? Perché sicuramente, non potendosi usare la proprietà delle potenze, è un qualcosa che rimarrà fino alla fine. Quindi, posso svolgerlo per primo, anche se la regola dice fare prima le operazioni nella tonda. Voi potete anche tranquillamente fare le operazioni nella tonda. Poi, quando arriverete ad avere l'espressione, risolverete le potenze. Va bene lo stesso. Ok. Più 64, meno. Anche questa volta, 3 alla quarta è preceduto dal segno meno, quindi potrei calcolarlo. E il 3 moltiplicato per sé stesso, 4 volte. 3 per 3 fa 9. 9 per 3, 27. 27 per 3, 681, di nuovo per 3, 3 per 1 3, 8 per 3 24, 243. Dovrebbe fare meno 243. Scriviamo. 32 meno 2, 30. Posso togliere le parentesi, visto che fa 30. E ho 30 diviso 6, più 2 per 5. Diviso 5 più 2. Riscrivo tutto. Ok. Possiamo andare avanti. 49 meno 27, più all'interno della quadra, svolgere prima le moltiplicazioni e le divisioni. Quindi, 30 diviso 6 fa 5, più 2 per 5 fa 10. Diviso 5 più 2 più 27, diviso 2 più 64, meno 243. 49 meno 27, più 5 più 10, 15. 15 diviso 5. La regola vuole che bisogna risolverlo successivamente. ci troviamo all'interno della graffa. Si svolge prima la divisione. 15 diviso 5 fa 3. Quindi all'interno della graffa 3 più 2 più 27. diviso 2. 15 diviso 2. 49 meno 27, più possiamo subito fare il conto. 3 più 2 fa 5. 5 più 27 fa 32. diviso 2. diviso 2. più 64 meno 243. 49 meno 27, più 32 diviso 2. 16. più 64 meno 243. ok. qui andrebbe fatto in ordine, no? 49 meno 27. Quindi fa 23. più 16 più 64 meno 243. no, che è 23. 9 meno 7 fa 2. 22. Scusate. 22 più 16 più 64 meno 243. 22 più 16 fa 38. Più 64 meno 243. 8 più 4 12. Scrivo 2, riporto 1. 6 più 3 fa 9. Uno che ne riportavo 10. 102 meno 243. Il che mi fa capire che ho sbagliato il 3 alla quarta che non è 243 ma è 81 moltiplicato troppe volte per 3. Infatti 3 per 3 fa 9 9 per 3 27 27 per 3 fa 81 quindi qui correggiamo 81 81 81 81 e così via bene bene adesso la sottrazione si può fare 102 meno 81 2 meno 1 1 0 meno 8 non si può fare riporto dell'1 diventa 10 10 meno 8 fa 2 21 controlliamo il risultato di questa 168 fa 21 quindi spero di essere stato chiaro con i passaggi qui c'è stato l'errore di 3 alla quarta e possiamo andare avanti ok correggiamo la 169 mi sembra interessante perché ci sono molte proprietà delle potenze da usare allora 2 più 3 per apro graffa tonda 5 alla terza per 5 alla seconda diviso quadra 5 alla terza per 5 per 5 alla seconda chiudo alla sesta diviso 5 alla terza per 5 alla seconda per 5 per 5 alla seconda chiudo la tonda alla quarta più apro quadra apro tonda 3 alla terza per 3 chiudo tonda alla quarta chiudo graffa alla 0 chiudo e scusate chiudo quadra alla 0 chiudo graffa diviso 2 ok semplicemente scritto l'espressione come vedete c'è la stessa base c'è il per quindi qui sicuramente applicherò la proprietà delle potenze e anche qui e poi anche dopo perché c'è il diviso anche qui riferò la proprietà delle potenze svolgiamolo 2 più 3 per apro la graffa 5 alla terza per 5 alla seconda fa 5 alla quinta 3 più 2 fa 5 diviso apro la quadra svolgiamo le operazioni nella tonda 5 alla terza per 5 alla prima per 5 alla seconda 3 più 1 più 2 quindi 5 alla sesta in più di nuovo alla sesta perché è vero che qui dentro fa 3 più 1 più 2 che fa 6 ma fuori dalla tonda c'è l'esponente 6 quindi ripetono 5 alla sesta e fuori la parentesi tonda devo scrivere il 6 poi continuo diviso qui 5 alla terza per 5 alla seconda per 5 per 5 alla seconda stessa base sommiamo gli esponenti 3 più 2 5 più 1 6 più 2 8 quindi 5 all'ottava tra parentesi fuori dalla parentesi alla quarta più quadra 3 alla terza per 3 3 più 1 come ho detto quando è sottinteso vale l'esponente 1 quindi 3 più 1 fa 3 alla quarta tra parentesi e poi dovrò scrivere di nuovo il 4 3 alla quarta tra parentesi fuori il 4 inoltre fuori dalla quadra alla 0 chiudo la graffa diviso 2 ok procediamo quando ci sono le proprietà delle potenze in realtà l'espressione è corta vedrete che in pochi passaggi riusciremo a fare tutto 2 più 3 per 5 alla quinta diviso concentriamoci sulle quadre questa è potenza di potenza quindi che si fa con gli esponenti si fa 6 per 6 che fa 36 quindi 5 alla 36 diviso e qui invece si deve fare 8 per 4 proprietà di potenza di potenza cioè 32 5 alla 32 più 3 alla 4 per 4 che che fa 16 quindi 3 alla 16 alla 0 chiudo la graffa diviso 2 2 più 3 per 5 alla quinta diviso proprietà delle potenze c'è il diviso quindi si devono sottrarre gli esponenti 36 meno 32 fa 4 quindi il risultato 5 alla quarto ok più 3 alla 16 per 0 sempre proprietà delle potenze quindi fa 3 alla 0 perché 16 per 0 fa 0 chiudo diviso 2 pochi passaggi l'espressione è stata ridotta di molto e tra un po' la risolveremo 2 più 3 per proprietà delle potenze c'è il diviso 5 meno 4 1 5 alla prima più più qualsiasi numero elevato alla 0 tranne 0 alla 0 che è indeterminato fa 1 quindi 3 alla 0 fa 1 scriviamo 2 più 3 per 5 alla prima fa 5 5 più 1 fa 6 ok si può togliere la parentesi però si devono fare prima le moltiplicazioni e le divisioni quindi 2 più lo riscrivo 3 per 6 fa 18 18 diviso 2 fa 9 2 più 9 fa 11 controlliamo se è giusto è giusto ok ora il video sta diventando un po' lungo metto anche il telefono in carica perché tra un po' si scarica quindi vi saluto qui questa è la prima parte sulle espressioni e poi cercherò di farne almeno altre due se non tre ok quindi alla prossima e saluti